bella a tutti ragazzi qui a the official video games e benvenuti in questo nuovo video di fortnite so che hanno aggiunto le auto oggi andiamo qui a fattoria frenetica non mi vedete in webcam perché è scarica devono arrivarmi le batterie della patona non appena arriveranno ragazzi vi faccio anche il video unboxing detto questo andiamo a fattoria frenetica sono in singolo non sono né in coppie e né in compagnia di amici e quant'altro vediamo un po ragazzi le auto che hanno aggiunto ovvero quali auto posso prendere innanzitutto mi c'è da punto qui e andiamo a prenderci già un bel po di roba da quello che ho capito mi sa che si possono guidare anche camion e quant'altro non lo so vediamo un po vediamo un po che cos'è che riusciamo a fare in questo video sarà un video abbastanza corto lag più non posso sì grazie ascia tutto qua aspettate che qua ci sta una mitica chest dai e forza compà e vabbè il fucile a pompa cacchio cacchiarola cacchiarola e vabbè il fucile da caccia bene io ho tutte ste cavolo di armi qua non le so proprio usare aiuto 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 maronne santissima maronne santissima bene ottimo perfetto mi hanno dato anche una jump che la jump è meglio che niente eh e voi che ne dite sarà meglio che niente sì allora facciamo così lascia sto cacchio decoso qua e mettimi questo perfetto bene ottimo ce ne possiamo anche andare via di qua perché come detto da quello che ho capito mi sa che da qua ci devono essere le auto ora non so come detto ripetisco non so che tipo di auto possiamo prendere e tipo di auto possiamo usare noi altri bene mi sa che già da qua già un po di nemici e quant'altro benissimo benissimo esci fuori prima kill beccatus vai facciamo così sposta questo qua e pigliami questo il pompazza andiamo a vedere di qua se è veramente possibile usare le auto perché io ora come ora non so proprio che tipo di auto posso usare se le posso usare prima eh eh mo avete detto bene sempre se le posso usare aspettate perché mi sa che sento un po di gente sento un po di gente eh già è già non so da dove però ci sta un po di gente eh sud 150 a sud est 150 165 benissimo ottimo ed eccoli qua ed eccoli qua eccolo perfetto fatto fuori il tizio aspettate che ce ne sta un po di gente che non mi fa arrabbiare però dai ecco qua ho sentito già un auto dove vai scendi di qua che ti fai male maledetto strunz botta di lag ogni tanto che non manca mai affanculo os maledetto os e che cavolo ecca la ecca la che è arrivato uno con l'auto eh dai ma non è vero ma mi hai investito con l'auto non si capisce niente raga non si capisce niente eh no dai guarda qua eh ragazzi no dai veramente non si capisce niente no veramente ragazzi dai non si capisce niente beh questo qua mo ci muore se ce vaffanculo e so contento vaffanculo che ci sei crepata aspettate però comunque si ho visto anche che ci stanno le tanniche di benzina vuol dire che le tanniche di benzina vanno messe alla nostra auto da quello che ho capito da quello che ho capito com'è adesso è cambiata di nuovo la roba qua dove che ci alleniamo dove che prendiamo armi e quant'altro eh già aspettate però che comunque sia vedete un po' la mappa la mappa è completamente cambiata e si infatti hanno in pratica abbassato il livello dell'acqua io quasi quasi ragazzi andrei quasi a sabbie sudate lo so forse magari possiamo fare soltanto quest'altra partita e poi dopo fermarci qua con questo video di fortnite era giusto tanto per vedere quello che avevano aggiunto però devo dire che vabbè a parte il fatto che io comunque sia non ho manco provato le auto però da quello che ho capito ovvero Cri203030 mi ha detto in pratica che non si capisce una beata ciosba bene vai buttamose e buttamose 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 giù così come se non ci fosse un domani un domani buttamose buttamose come se non ci fosse un domani cavolo però prima non avevo manco visto quanti kill avevo fatto bene ottimo aspettate perché qua sotto qua ci stanno camion però non lo so ragazzi le auto com'è che funzionano cioè che tipi di auto possiamo recuperare quante auto possiamo guidare che tipi di camion possiamo pigliare e quant'altro io ma questo qua non è che lo so ragazzi eh io ma vado così ad intuito qua davanti bene dov'hai oh e che cos'è e dai e mori c'è che te piglia picconate maledetta fan club stronza del mangas apri qua munizioni per papino benissimo e non ci abbiamo trovato manco un'arma bene 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 benissimo benissimo e da qua sento chest eh già di qua sento un po' di chest e che cavolo non c'ho manco materiali per costruire mannaia li mortecci vostri e che cos'è mannaia voi mannaia voi dai e compa me serve un'arma 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 allora ci facciamo il medikit perché almeno così con il medikit siamo più o meno messi a posto e già abbiamo una kill presa picconate ma vabbè fin quanto è godibile con le picconate bene no io da qua sapete che cos'è che ci muoio ci muoio e già io qua ci muoio ragazzi se mi butto di sotto ci muoro ce moro ce morimo ce morimo così tantissimo oh che bello ciao chest tutta per papinus benissimo benissimo bene facciamoci i shieldini è meglio che niente ragazzi benissimo vai apri qua vabbè i chest in fortnite si sanno che vanno sempre sfasciati sempre comunque io non me la piglio con il non me la piglio con le con i chest ma me la piglio con i letti perché i letti è con i letti molto meglio no vai scendiamo giù e andiamo a vedere che cacchio è che ci sta da qua bene perfetto altra chest per papino che stava riposando come se non ci fosse un domani piglia materialis e piglia munizionzoles e damusess qua niente nel cesso benissimo ce ne scendiamo tanto buono buoni 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 di qui bene perfetto ok scendiamo di qua e andiamocene via di qui prima che me ci vengono a cuccare malissimus e io mo quello la lo vorrei prendere quel camion non so nemmeno se è che lo posso guidare quel camion oppure no eheh questo è sì infatti è sì infatti questo qua sì 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 oddio oh dai no ma perché sterza da solo ah ok quindi perciò è anche comandabile guarda qua ma ciao dizio che bello io c'ho il camion lo sai che tra un po' ci muori sì lo sai eh dove vuoi andare vieni qua papà vieni 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 qui vieni qui che ti do un bel bacino ma guarda un po' te eh no dai ragazzi la figata delle auto ok ci sta ciao tizio eh ciao vedi che io ti passo sopra guarda che io non ci perdo niente che scendo e te faccio fuori eh no ma 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 me scusi ma scusaste ma scusaste eh mannaggia voi mannaggia e che naggia voi DAIE AFFANCHULOS e che cazzo porca trota mannaggia voi mannaggia che c***o mannaggia quel porco daie curati tizio tizia curate dai e forza Che qua c'è sta gente Come se non ci fossero domani A parte il fatto che c'ho anche un cavolo di armamento Che fa schifo ai cani E già sta roba qua fa schifo Proprio completamente i cani E vabbè ragazzi dai su uno shieldino Vabbè meglio che niente dai Damose 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 Facciamo così va Piliamoci questo qua che è meglio che niente Butta via sta roba Piglia questo qua Aia vaffanculo pezzo di merda Ma tu pensa un po' questo Ma ha fatto fuori Ma ha fatto Mannaglia l'imorte E che cazzo Vaffanculo Ma ci schiattico le granate Pezze merda Ehi quello l'ha proprio giampato Altro che Mannaglia lui Mannaglia Io qua mo Io qua mo c'è moro Io mo qua c'è moro Vabbè questa qua Ormai ragazzi Non serve più a niente Sta auto Perché in pratica C'ha una gomma a terra Volevo vedere Se riuscivo a trovare In pratica un cacchio Di medikit Eh eh Medikit sto cacchius Medikit sto cacchius Aha Eccolo qua Bene Perfetto Allora Lascia questo Fatti il medikit Tizia Benissimo Va benissimo anche così Va benissimo anche così Cacchio Maronne santissima Oh questi qua Sono proprio agitati Quando vengono su fortnite Specialmente poi Con tutta sta roba Che ci abbiamo Guarda qua Quanta robina E beh Voglio dire no A parte il fatto che Non c'ho manco un pompa Non c'ho manco un pompa Non c'ho un cacchio Non c'ho un cavolus Vabbè A parte il fatto che mi sa che Benzina e quant'altro Si Vabbè Aspettate un attimo Facciamo così Va Lascia ste granate Piglia di questo E' meglio che niente Raga Bene Passa questo qua Butta via sta roba Ok Se poi dopo magari Riesco a trovare Qualche cosa di tanto meglio Beh Meglio ancora no Voi che dite Vabbè Comunque sia ragazzi Andiamocene a piedi Perché a piedi Secondo me Facciamo la miglia cosa Giusto tanto per vedere Com'era Diciamo che E' abbastanza buono Però Secondo me Ci sta un cacchio Di lag Della madonna Che non me lo sa Ridaglielo Con queste botte di lag Via Damos in safe Via Damos in safe Via Damos in safe Via Damos in safe Dicevo Non è che tanto tanto Mi garba L'esistenza delle auto Però A parte il fatto Che comunque sia ragazzi Si Si vede A chilometri e chilometri Di distanza Che c'è un casino Della madonna Quando usiamo le auto Maronne Maronne santissima Raga No veramente Non sto scherzando C'è un casino Della madonna Che non sapete Nemmeno l'idea Aspettate Perché io qua Sento cesta Sento cesta Aspettate No Vabbè Mi sa tanto ragazzi Che ce ne dobbiamo andare Eh già Vai piglia qua E damose Ah il pompa Il pompa Via Via di qua Via di qua Via 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 di qua Quindi Niente ragazzi Niente E va così Oggi va così A parte il fatto Che comunque sia Volevo provare La nuova modalità Di fortnite Devo dire Che è abbastanza Intrigante Però Come detto Ci facciamo Soltanto Due maroni Come due Cocomeri Vabbè Però Comunque sia Ragazzi Volete fare Che hanno introdotto Le auto I camion Secondo me Ci potrebbe anche stare Ma non vorrei dire Nulla Ma secondo me Ci potrebbe stare Come non ci potrebbe stare Ovviamente C'è a chi garba E c'è a chi non garba Sapete qual è la cosa un po' più peggiore di fortnite Adesso che hanno aggiunto le auto Beh Che quando ti trovi a piedi E passa qualcuno con l'auto Ti scazza sotto Come se non ci fosse un domani E questa cosa qua Non mi piace nemmeno un po' Ecco perché Io almeno sarei contrario Ad una cosa del genere Poi Oh Amen C'è a chi piace E c'è a chi non piace A me ad esempio Che piace Non è che non piace Però Comunque sia Ragazzi Si potrebbe Si poteva fare anche un po' di meglio Si poteva fare A parte il fatto che Comunque sia Potevano mettere soltanto un'auto E usarla tutti quanti giocatori Quindi quanto siamo 100 giocatori E 100 giocatori Devono usare soltanto un'auto Almeno così Non c'è panico Tra persone E quant'altro Sento gente Sento gente Ma dove? Sento gente Qui Morta la signorina Benissimo Ci sta altra gente Si Si Ci sta altra gente Ci sta altra gente In corso Ci sta altra gente In corso Do state Maleducati Malducati 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 Do state Malducati Venite fuori Venite fuori Che c'è papino Che vi fa il poposto Via Damus raga Damus es Damus es che è meglio Maronne santissima la tempesta è quasi in arrivo Siamo rimasti in 15 Siamo rimasti in 15 15 15 15 Bene Perfettus Aspettate C'è per Papinus Non stiamo tanto fermi Perché se stiamo fermi poi va a finire che ci cuccano Malissimo Benissimo Andiamo qua dentro Andiamo qua dentro E camperiamoci qui dentro Bene così Aridagliala Eccala Ma come cazzo mi hai fatto a beccare tramite la mia parete Ovviamente questo qua è un hacker Ok dai ragazzi allora io direi quasi quasi di fermarmi qui con questo nuovo video di Fortnite Dopo aver aggiunto le auto Come detto secondo me dovevano mettere un'auto barra due auto per quanto siano i giocatori Perché? Perché se no altrimenti così veramente signore e signori non si capisce una beata ciosba Detto questo io concludo qui questo video di Fortnite Spero innanzitutto che vi sia piaciuto E se così mi raccomando Spolleggiate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina Condividete questo video per aiutare se il canale a crescere E da TheOfficial Video Games è tutto Noi ragazzi ci si becca molto presto con un nuovo video Ciao ciao ragazzi Noi ragazzi Noi ragazzi